Bucine, il sindaco Nannini ha nominato gli assessori mancanti, la squadra di governo adesso è completata. L'annuncio del primo cittadino, eletto lo scorso giugno, è arrivato durante l'ultimo consiglio comunale, svoltosi ieri sera in città. In giunta entrano due profili esperti, ovvero quello di Valerio Menchiari, insegnante in pensione, cui Nannini ha affidato il settore delle risorse umane, lo sport, le manutenzioni e l'istruzione. Entra poi in giunta anche l'avvocato Paolo Amugnai, con deleghe ai rapporti con le associazioni, commercio e turismo, cultura e gemellaggi, affari giuridici e legali e sicurezza. Si tratta, come detto, di due figure esperte che vanno da affiancarsi alla vice sindaco Luca Moretti, assessori a bilancio, attività produttive, tributi ed ambiente, e da Silvia Cioni, assessori alla sociale, alla sanità, alle politiche giovanili e alle pari opportunità. La giunta è ovviamente completata dalla sindaco Paolo Nannini, che ha tenuto per sé le deleghe all'urbanistica, ai lavori pubblici, alle società partecipate e le politiche agricole. In campagna elettorale abbiamo detto che la nostra è una legislatura di transizione, ha detto Nannini, e che il mio ritorno era sinonimo di esperienza, alla servizio del rinnovamento. Tenendo fede a questo assunto, sono state subito inserite in squadra persone competenti, ma senza un progresso politico. Il secondo passo, ha concluso Nannini, è stata la valutazione dei bisogni della macchina comunale e la scelta di personalità già rodate.